a sé sto cucinando e perché oggi mi vado ad allenare finalmente sono tornata ad allenarmi sto cercando di mangiare anche bene di inserire di nuovo le proteine e comunque di mangiare un po low carb tra virgolette perché comunque c'ho 10 kg che devo perdere ragazze quindi mi faccio questa sua però che mi piace un sacchissimo e della pasta proteica di food spring la cosa bella di questa qualche buonissima e non sembra che un prodotto fit proteico vi sazia un sacco e va bene anche per i vegani perché praticamente fatta con le proteine del pisello quindi praticamente mi fa ridere questa cosa e potete vedere il pisello mi fa ridere però comunque è buonissima e super sana e la cosa buona è che vi sazia un sacco e anche se ad esempio voi non mangiate la carne oppure andate di fretta non riuscite a fare le proteine carboidrati e tutto vi mangiate questa qua che c'ha una bella dose di proteine è un basso contenuto di carboidrati io non ci credevo poi l'ho comparata con un pacco di pasta normale adesso vi faccio vedere e praticamente ha molte molte proteine e molti pochi pochissimi carboidrati rispetto alla pasta normale e poi buona comunque ragazze era andata sold out sito food spring all'altra volta che ve la faccio vedere adesso l'hanno rifornita quindi fate scorta io pensate che ne ho tipo 10 pacchi nel mobile che mi piace un sacco e fatene scorta adesso avete anche il mio codice sconto carlita ips non ti che potete prendere quello che volete questo food spring sapete che io amo prodotti food spring però in particolare questa qua 3 4 pacchi ma anche 5 6 10 io li prenderei fosse un buio questa cosa proprio perché le ho comparate vedete io ce n'ho un sacco di pacchi perché veramente mi piace un sacco la pasta proteica di food spring è buona buona adesso la farò al pesto vi faccio vedere comunque comparando con una pasta normale questa ad esempio ha 72 grammi di carboidrati questa ha 25 grammi di carboidrati di cui uno zuccheri quindi praticamente sono solo 25 grammi rispetto a 70 quindi pochissimo e a 50 grammi di proteine si vede ecco qua rispetto a 12 grammi quindi a molte proteine e pochi carboidrati ragazze provatela io ve la straconsiglio soprattutto se volete stare in forma perdere qualche chi letto è veramente veramente buona perché sembra veramente che mangi la pasta ma alla fine pasta non è infatti c'è scritto qua 50 per cento di proteine top acqua ragazzi andiamo alla buttare un bel 100 grammi di pasta a persona senza senza di colpa e adoro a secco l'acqua la pasta proteica di food spring vero amore è buonissima al pesto l'ho fatta col pesto ragazze vi giuro la dovete troppo provare è troppo buona e soprattutto è light quindi non ci fa ingrassare viva poi se fate palestra è buonissima perché ricca di proteine amore fai l'assaggio in diretta fa vedere che anche tu che non sei fit perché tu sei fit non è vero anche dario fit però come la trovi dice la verità è troppo buona quindi ve la straconsiglio fate scorta amore dai andate tutti su sito food spring carlita ipis non ti comprate questa pasta e poi fatemi sapere la razza è buonissima veramente veramente buona buon natale qui è già natale e qui daniel e pupi pupi e se faccio vedere le cose che ha comprato allora e faccio vedere cosa ha comprato gli acquisti di natale allora al disney store questo qua è tipo un topolino è bellissimo poi volevo prendere questo regalo per una una bimba che ho preso poi questo qua è la casa che ho preso stupenda ragazze cercavo una casa per daniel ho preso questa my feast christmas bellissima e il babbo natale topolino bellissimo poi sempre al disney store ho preso questa che è fantastica ragazze ed è una vestaglietta di natale adoro con topolino sempre questa è 69 mesi però la vedo abbastanza piccola lui ha solo due mesi però comunque si porta grande c'è anche le orecchiette non vedo l'ora di mettergliela di fargli una bella foto poi in questo negozietto a napoli ho preso tovaglioli di natale adoro queste sono delle bacchette che si mettono sull'albero per farlo profumare di profuma proprio di albero di natale poi un po di palline e cose speciali tipo degli appennini per l'albero particolari della coca cola guardate questo è l'orso della costa non botto questo è qua però sono bellissime sono belle proprio da conservare negli anni adoro a me piace conservare le cose sull'albero non cambiamole quindi se mi piace conservarle sì mi vale la pena investire ok sono pezzi anche rari questo è sempre babbo natale con le bottiglie della coca cola è bellissimo ok poi questo qua questa è la picca questo è bellissimo ragazzi troppo bello bellissimo merry christmas c'è scritto sopra questo è tutto in vetro soffiato è veramente bello poi questa luce maledetta che non ci fa vedere bene vabbè allora questa qua praticamente sono troppo triste perché si è russa ieri mentre la perché sono di vetro sono delicatissime questo qua ma è fissi christmas abbiamo fatto scrivere daniel quindi devo andare a farmela rifare perché non l'appenderò perché comunque secondo me al minimo movimento va a terra e delle pezzi di vetro a terra anche con un po' più pericoloso questo è sempre coca cola questo è il camion della coca cola che praticamente si illumina guardate è bellissimo troppo bella poi 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 altre palline a questa è quella sempre di vetro che abbiamo fatto scrivere cioè maneggiare con cura dario marcella e daniel bellissimo con l'alberello e la neve dentro troppo bella infatti adesso non vedo l'ora di attenderle e questa qua invece è semplice però è molto bella anche questa merry christmas rosso e oro sono sempre di vetro comunque abbiamo scritto tipo 400 euro di addobbi di natale per me secondo me però io l'ho scoperta è bellissima adoro adesso devo sistemare tutto sull'albero poi faccio vedere ragazze vi devo raccontare questa cosa della casa sono troppo troppo felice perché finalmente abbiamo aggiornamenti riguardo alla casa nuova a proposito i capelli se vi chiedete perché spesso mi chiedete come fai a fare questa peca li fai tu adesso li ho fatti in casa io e perché proprio volevo curarli un po di più mi sto trovando benissimo con i prodotti parentesi bio che ho inserito sul mio shop online dopo tante richieste cioè in tantissime avete chiesto di inserire questi prodotti e devo dire che li ho provati e me ne sono innamorata sono buonissimi biologici naturali sono molto molto profumati e veramente sono pazzeschi io vi dico ragazze provateli perché sono buoni tra l'altro li abbiamo scontati ancora per pochissimo tipo uno o due giorni al 20% già costano poco però con lo sconto li pagate ancora di meno quindi dico fate scorta prendetele perché credetevi sono buonissimi ve ne innamorerete infatti anche su instagram mi avete scritto in tantissime che come me le amate quindi sono felicissima di averle inseriti questa è la maschera l'ho utilizzato prima all'impacco ho fatto l'impacco pre shampoo con questo urca che è tipo un impacco rinforzante buonissimo tra l'altro non unge quindi anche se non le avete secche se le avete grassi non appesantisce lo potete fare poi ho utilizzato lo shampoo ho utilizzato questo qua alla cheratina che è buonissimo e fa una bella schiuma morbida mi ha dato troppa soddisfazione non mi giuro mi sono innamorata e però c'è anche quello per capelli grassi alla bardana eccolo qua quindi se avete capelli grassi provatelo sono veramente veramente buoni poi io ho messo anche la maschera questa qua al cocco coccoliva buona 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 e anche districante questa veramente mi è piaciuta un sacchissimo e poi dopo ho utilizzato fata spirolina anche no mi sono troppo carini questo qua è lo spray anticrispo termoprotettivo anche mi piace un sacco questo spray e me lo metto anche tipo per profumare i capelli perché sono diventata tipo dipendente da questa profumazione che non vi so dire neanche io che cos'è ma qualcosa di fruttato buonissimo dolce e mi piace un sacco poi ragazzi c'è anche tipo questo qua che è il co-wash caramellino troppo troppo carino poi ci sono anche prodotti per il corpo per il viso tipo questo qua è lo scrub anche questo mi piace un sacco alla fragola e frutti rossi viso e corpo troppo troppo buona cioè il fatto che abbiano queste profumazioni che ti voglia di mangiarli li usi più spesso non so voi ma io li uso sempre c'è anche l'olio anticellulite guardate qua bellissimo nella confezione spray quindi super pratico poi questo qua è il sciacquo acido alla birra comunque ci sono sapete che il sciacquo acido questo qua chiude le squame di capelli quindi i capelli risultano molto più lucenti morbidi e belli comunque ragazzi sono infiniti prodotti venite a vederli tutti su caritashop.com queste qua ad esempio sono allora l'acqua micellare che però è particolare perché in gel gel mask micellare ambrosia e cenerina che invece il gel tonic purificante questo è molto buono è un tonico in gel quindi molto diverso dai tonici non è accuso ma in gel e la cosa bella è che è purificante e ha un colore anche particolare perché contiene spirulina, carbone, pomodoro, cetriolo sono tutti ingredienti naturali che vanno a purificare la pelle e se avete pelle mista provate questo qua ci sono anche le creme viso ci sono anche siri, bava di lumaca, acido ialuronico comunque li trovate tutti adesso ce l'ho di là in bagno in caso mai vi metto il link alle box informazioni sotto venite su caritashop.com trovate proprio in novità la categoria parentesi bio comunque metto il link alle box informazioni dove trovate tutti questi prodotti scontati quindi approfittate questa è la crema living, questa è pazzesca e ve la potete dare, vedete com'è bella? ve la potete dare anche questo profumo pazzi, ho troppo belle profumazioni anche ogni giorno questa qua per lui e per lei tra l'altro c'è scritto con banana, carota, pappa reale, olio d'oliva trattamento intensivo poi la cosa bella è che dietro ci è spiegato tutto come utilizzarli, consigli no vi dico che per quello, per come sono, per gli ingredienti che hanno, per la cura nei pack, nelle immagini, in tutto dovrebbero costare il doppio invece hanno dei prezzi super onesti comunque voi li potete provare anche scontati e ve ne inaugurerete, provate, guardate qua io che faccio, mi modello in questo modo le onde comunque vanno bene anche se le avete lisce, adoro e mi resta un profumo stupendo sui capelli, adoro comunque raga provateli, venite su kaitashop.com e provate, tra l'altro ci sono tantissime novità, non solo questi però questi qua li dovete provare, provateli e poi fatemi sapere, sono fantastici comunque ragazzi a proposito della casa, io vi dico sono troppo felice perché finalmente siamo riusciti a concludere la trattativa per la casa ma no raga che felicità, oddio che bello e probabilmente non so se riusciamo a fare natale là vabbè sarebbe un sogno da natale nella nuova casa, top, cioè mi commuovo solo a pensarci perché quest'anno è un anno particolare perché comunque non solo c'è, in più alla felicità che avevo prima no? che già era tanta perché sono molto molto grata alla vita, quindi a Dario, a Pupi, comunque alla mia famiglia, gli amici a voi, al mio lavoro, a kaitashop, tutto, in più a tutto questo la vita mi ha voluto dare anche altro mi ha voluto dare Daniel e questa cosa della nuova casa, che è il mio grande sogno che ho sempre lavorato, risparmiato, messo da parte tutti i miei risparmi credetemi per questo, perché sì, lo sapete, io compro anche, mi capita di comprare borse firmate anche se non ne ho tantissime scappe firmate, pochissime, viaggio, mi piace farne però quello che è sempre stato il mio desiderio più grande è stato lavorare, risparmiare e conservare per una casa mia, una casa mia che un domani darò a mio figlio prima dicevo ai miei figli, adesso che c'è lui, dico a lui, darò a Daniel è una casa in cui vivere tante emozioni belle, come il Natale, come tutto associare tutti i miei ricordi a quella casa, quindi non vedo l'ora, sarebbe un sogno riuscirci magari con le vostre pieghierine, anche se comunque non sono qui cioè, voglio dire, se vi capita di fare una pieghierina, di mandare un po' di energia positiva ma non sono queste le cose, non vi preoccupate, però veramente sarebbe un sogno per me sarebbe proprio una ciliegina sulla torta, poter fare il Natale, però comunque l'importante è andarci, io ovviamente condividerò tutto con voi, quindi non vi preoccupate non vedo l'ora ragazze, tra l'altro, proprio qualche giorno fa siamo andati a vederla è un fizzuro, è pazzesco, bellissima, non vedo l'ora di farvela vedere yeah, vabbè mi emoziono come una stupida mi amori, ciao amore, anche lui è vestito come un ometto come te mi adoro, siete bellissimi amore, qua c'è la palestrina che gli abbiamo messo ogni tanto, ah che bello, ho messo le pile, bravo, qua abbiamo l'albero ah ho aggiunto tutte le cose, guardate che bello, tutte le cose, adesso che c'è la luce faccio vedere, comunque sta diventando bello stupendo, bellissimo ah vabbè, impazzisco comunque, qua c'è Pupi che gioca con il suo giochino, vero Pupi? e qua c'è la palestrina di Daniel accendiamola mi amore ha messo le pile dove si accende? qua? uno, ah ci sono anche le numerazioni questa ce l'hanno regalata dei nostri amici ah non fuggiono dove? qua? oh bellissima ah c'è il volume, che fa? questa è solo la luce ah solo la luce qua? bello amore bellissimo bravo, bravo amore comunque una cosa stupenda che vi dovevo dire, mi scordavo sempre di dirvi che ho creato sul mio shop online dei set, dei kit, è una cosa che mi chiedevate sempre quindi sono felicissima di averlo fatto cioè praticamente dei kit vi so, per ora sono solo quattro ma ovviamente se vi piace l'idea ne posso creare altri perché voi mi chiedete sempre consigli consigliami qualcosa per la pelle grassa, per la pelle secca quindi ho creato questi kit proprio personalizzati con i prodotti migliori che vi consiglio per quella tipologia di pelle ne ho creato uno per le macchie per eliminare le macchie dal viso, per schiarire i segni e le imperfezioni e le macchie un altro per perfezionare il viso contro l'impurità e contro l'acne un altro per il corpo, quindi contro anticellulite, contro la ritenzione, snellente e tonificante e un altro per i capelli che è proprio quello con i miei prodotti preferiti appunto per ristrutturare, ammorbidire e lucidare i capelli e questi kit sono anche scontati li ho messi scontati in promolancio almeno 20% quindi sono super convenienti dentro ci sono 5-6 prodotti e sono praticamente una routine completa appunto per risolvere questo inestetismo fra virgolette adesso ve li faccio anche vedere comunque li trovate su caritashop.com c'è proprio la categoria kit caritashop scontati al 20% devo dire che appena li ho pubblicati senza ancora che ve lo dicessi già li avete acquistati in tantissime quindi vuol dire che la cosa vi piace mi fa tanto tanto piacere ragazzi questo è il primo kit quello appunto contro l'impurità e contro l'acne dove ci sono tutti i prodotti appunto purificanti per eliminare brufoletti, punti neri, impurità e imperfezioni dal viso è buonissimo ragazzi veramente ci sono i prodotti mass cioè scelti da me, selezionati da me c'è tutta la routine quindi il detergente, lo scrub, la maschera c'è tutto poi sul sito io vi metto il link in box informazioni sul sito c'è spiegato benissimo vi ho scritto bene tutti i prodotti come utilizzarle, la routine, tutto poi invece il kit per il corpo quindi anticellulite, rassodante, snellente, anti-litenzione con il succo odale da prendere tutti i giorni il fango, anticellulite, snellente, la crema comunque c'è tutto scrub c'è tutto anche per questo c'è spiegato tutto sul sito poi invece il kit contro le macchie dove ci sono i trattamenti all'ascito glicolico il detergente, la bava di lumaca c'è tutto invece il kit per i capelli dove ci sono shampoo, balsamo, il siero lo spray, la maschera buonissima questa è una maschera buonissima la fragola troppo troppo buona l'olio di cocco per fare gli impacchi comunque c'è scritto tutto sul sito e vi ho spiegato tutto e ragazzi sono buonissime ovviamente essendo che sono scontate al 20% ho risparmiato un sacco ragazzi stasera stiamo provando un nuovo sushi è molto molto bello anche come stile vi faccio vedere il giardin è arrivato al primo ordine vai amore dacci dentro abbiamo preso poche cose però eh c'è anche il nostro army ciao army vai amore faccio sapere com'è c'è anche Daniel bellissimi questi cameri questa che cos'è? gelatina marmellata mammella mmm buonissimo ciao